Trump in missione nel Wisconsin respinge al mittente le critiche al suo operato e a quello della polizia durante le proteste e le manifestazioni e le violenze che si sono abbattute sugli Stati Uniti dopo il ferimento dell'afroamericano Jack O'Blake sono una forma di terrorismo interno, dice, e ricorda i negozi distrutti, gli edifici pubblici che sono stati dati alle fiamme e i mattoni lanciati addosso agli agenti dai pacifisti e poi incontrando gli esponenti delle forze dell'ordine a Kenosha ha ricordato che la grande maggioranza dei poliziotti sono onesti servitori pubblici. Trump promette poi decine di milioni di dollari per le forze dell'ordine e le imprese di Kenosha dove un nero è stato ferito dalla polizia. Intanto un altro afroamericano è stato ucciso a Los Angeles in un inseguimento della polizia. È dura la reazione di Trump alla decisione della città di Washington di cambiare il nome o addirittura rimuovere alcuni monumenti tra cui il Jefferson Memorial, il Washington Monument e le statue di Cristoforo Colombo e del presidente Andrew Jackson perché tacciate di razzismo. Finché sarò alla Casa Bianca, ha detto Trump, le responsabili raccomandazioni del sindaco non andranno assolutamente da nessuna parte. Intanto il deputato democratico Joseph Kennedy III diventa il primo esponente della sua blasonata dinastia a perdere nella roccaforte di famiglia del Massachusetts nelle primarie per un seggio al Senato.